Passanadino. Potevo non rompervi le palle anch'io sul tema del mese, l'amore e quindi anche la solitudine. No, i fatti mi sono sdoppiata per poterlo fare. Scherzi a parte. Andiamo. Anche il filtro per diventare trina ma per la vostra pietà non lo utilizzerò. Vorrei parlarvi del motivo principale per cui è nato No Passanada, ovvero quanto io, e non solo io ma anche Francesca, ci siamo sentite sole nell'affrontare i nostri disagi, i nostri problemi e alle volte anche i nostri disturbi mentali. Io, la cosa peggiore che mi è capitata quando ho avuto attacco di panico e episodi di disturbo ossessivo compulsivo molto frequenti, non invalidanti ma molto frequenti qualche anno fa, che poi mi hanno portato a tutte queste riflessioni e anche poi a questo podcast, avevo una paura più di altre, di essere l'unica ad avere quei problemi e quindi mi sentivo tremendamente sola e so per certo che questa è l'esperienza di tante altre persone. Non oso dire tutti ma direi quasi. E allora che cosa si può fare? Innanzitutto credo che sia fondamentale parlarne con le persone che abbiamo intorno, ne ho parlato anche recentemente in un'intervista, dobbiamo essere noi i primi e le primi a destigmatizzare quello che ci succede e quindi a condividerlo, naturalmente non con il mondo necessariamente, però con le persone che sentiamo di essere vicino a noi. Non è detto che capiscano, non è detto che sappiano di che cosa si tratta, però sicuramente se sono noi vicini sapranno empatizzare, se non empatizzano andiamo più avanti. Ma almeno una persona al mondo può capire. Ci sono sicuramente tanti contenuti, No Passa Nada è solo uno dei tanti, che trattano anche determinati temi e quindi sicuramente è molto facile capire razionalmente che non siamo soli, soprattutto nell'affrontare problemi. La storia dicevo che fare, come direbbe Lenin, quando la solitudine è più generica, quando la solitudine è un'emozione che magari non necessariamente è riconducibile a qualcosa di reale. Again, posso portare la mia esperienza, in questo caso legata a un disturbo mentale, ma potrei portare la mia esperienza di imprenditrice. Si dice sempre che l'imprenditoria è un mondo molto solitario ed è la verità, come altri lavori forse più di altri e meno di altri. Non voglio vincere il gagliardetto, però è molto solitario, specialmente perché è spesso difficile da spiegare una visione che magari uno ha in testa agli altri, magari rendendola concreta, finché appunto non ci riesci. Come ho fatto ad affrontare e come faccio ad affrontare la solitudine quotidianamente in questo? Beh, mi creo delle abitudini, innanzitutto. Abitudini che non siano relative, per esempio, al mio lavoro, quindi che vadano al di là. Quindi crearmi degli hobby personalmente e costruire la mia relazione con me stessa. Quindi che l'hobby non sia un diversivo, ma che sia un modo per sviluppare la mia e le varie parti di noi. Qui l'inglese ci viene molto in aiuto, nell'altra cosa che voglio dire, che è la differenza tra alone e lonely. Uno può essere alone, da solo, molto spesso, ma non sentirsi mai lonely. Io non sono davvero, come posso dire, non mi sento davvero mai da sola nel senso di lonely, anche se sono quasi sempre alone. Ho il cane, questo aiuta. Considerate di adottare un animale domestico, perché aiuta tantissimo. Però effettivamente, io credo di sentirmi comoda adesso, ma non è sempre stato così, chiaramente. Come direte? Perché fai delle storie in cui parli di solitudine se non ti senti sola? Perché in realtà mi ci sento anch'io e perché mi ci sentivo molto in passato. Creandomi delle abitudini, abituandomi a stare con me stessa, anche a viaggiare con me stessa. Creandomi dei momenti prima di mindfulness, poi di meditazione. Scrivendo questo, che adesso vi faccio vedere, o provando a scriverlo spesso, che è uno dei miei diari. E in generale, apprezzando, anche grazie al mio cane, i momenti che passo con me stessa, oggettivamente sono riuscita a stare meglio. E non solo nel breve, ma a crearne un'abitudine. Quindi direi che vorremmo sapere le vostre esperienze. Prima di questo, vi voglio dire che comunque anch'io a San Valentino ero alone. Cercavo la traduzione. Anzi, prima della foto del mio cane, importante. Comunque vi sentiate, ricordiamocelo, le vostre emozioni sono valide. E soprattutto, le vostre emozioni non definiscono le persone che siete, ma sono solo lo specchio del momento che state vivendo, in quel preciso istante posto nel presente.